live live buonasera da Apilatina buonasera come al solito a Gastone Sodale Giovanni buonasera ma buonasera Gastone questa sera al professor Rocco Dedda buonasera buonasera Rocco eh mi raccomando ok ok Rocco Dedda che per quale motivo è stato invitato un professore Gastone cioè la la tutta questa questa settimana a pensare a a chi cercare di cosa chi cosa e perché come soprattutto come poi era già tempo che io al professore l'avevo l'avevo invitato e gli ho detto guarda una domenica di queste ci devi regalare un po' del tuo tempo la la situazione è questa qua matematica e natura un disegno di assoluta perfezione un disegno strano io direi perché quello che mi accomuna col professor Rocco Dedda in questi giorni noi prepariamo la live per tutta la settimana è le mie origini pugliesi professor Rocco Dedda a Orzara di Puglia quindi sono raccomandato perciò sono qua insomma dopo un minuto in quindici ci siamo svelati già mia nonna mia nonna Celle San Vito e parlavamo poco anzi uno dei paesi più il paese più piccolo della Puglia e che dista quanto Rocco da voi? Allora linea d'aria penso una decina di chilometri da Orzara di Puglia che è il mio paese eh un po' di più insomma però diciamo un po' più di mezz'ora e siamo e siamo lì insomma eh ho capito se vieni in vacanza a Celle quando sarà possibile insomma potremo incontrarci con molta facilità eh guarda io innanzitutto eh accetto quest'invito tuo che mi hai fatto ieri sì sì ma era sicuramente a Orzara anche perché lo diciamo e questo Rocco Dedda è anche una persona importante di Orzara di Puglia giusto Rocco? Sì dai mi occupo anche di di vita amministrativa sono vice sindaco del del mio comune sì il che noi diciamo che ci siamo conosciuti più per ehm un nostro amico legati appunto alla condivisione di di contenuti visto che io lavoro con un canale YouTube e sui social però diciamo che qualche esperienza anche sul campo della biodiversità visto che comunque sono di un paese di collina e di duemila settecento abitanti in cui sostanzialmente la rispetto alla biodiversità è tra i paradigmi fondanti appunto ancora adesso è chiaro che abbiamo trovato dei punti di condivisione molto più ampi rispetto poi al al tema della live che è molto interessante anche da un punto di vista professionale approfondire. Sicuramente puoi gestire un territorio di collina integro probabilmente come ancora il il paese di Orzara e poi farli in una comunità di duemila e settecento anime probabilmente anche più facile tra virgolette piuttosto che farli in contesti più ampi però potrebbe essere un modello poi da relegare. Anche se è un rapporto diretto con le persone che è un po' più stretto quindi. Sì è vero la pressione è maggiore lì. Hai ragione hai ragione è vero vi conoscete tutti quindi. E la non è dad Rocco la non è dinamica a distanza quindi. Mi facciano la finestra direttamente e parlano. Un enorme assemblea condominiale. Anzi io mi sento di dire che queste sono le live molto easy quelle che ci piacciono a noi e la live di condivisione di informazione a proposito qui si può fare assembramento ragazzi sì assembramento per uno uno scopo un fine quello dell'informazione no? Quindi adesso io finito tutto questo cappello questo preambolo lascio la parola come al solito a Gastone e che ci introduce ci inizia questo discorso questa questa chiacchierata col professor Rocco. Vai Gastone. Eh no abbiamo il piacere di averlo insomma è professore di matematica e fisica quindi è un campo professionale si occupa di di due tematiche che sono poi alla quotidianità di tutti noi insomma perché non possiamo fare a meno di questi due aspetti nella nostra vita sociale e vogliamo affrontare con Rocco qualche tematica che magari qualcuno di noi si ricorda dai tempi del liceo da chi ha fatto l'università no? Quindi la sezione aurea la sequenza di Fibonacci frattali cose che magari all'epoca 35 anni fa per me 40 anni fa per me sono state ostiche estremamente ostiche però poi che per fortuna ci siamo ritrovati nel lavoro perché da educatore ambientale poi la sezione aurea l'ho vista dentro le conchiglie l'ho vista dentro il cavolo romanesco l'ho vista nel nei fiori nei nei girasoli cioè in cose poi estremamente concrete quindi con Rocco che insomma ha la competenza per parlarne meglio di me però noi vogliamo fondere diciamo così avvicinare argomenti non alla portata di tutti come quelli della matematica di un certo livello con poi invece la signora Maria che va a fare la spesa al mercato e che quindi si trova poi delle cose pratiche tutti tutti i giorni quindi la prima cosa che ti volevo chiedere ma ripeto ne parliamo a braccio così come come viene questi concetti così complessi come ce li troviamo poi nel quotidiano nel nel particolare di tutti i giorni innanzitutto consentitevi un saluto ad Agostino Perna che è il primo contatto che ho avuto per arrivare a Marco e poi a voi nel senso che con Agostino condividiamo diciamo dei progetti di divulgazione di matematica e fisica anche a scopo didattico io come dicevo un canale youtube Agostino ce l'ha da molto più tempo di me quindi per me è stato anche diciamo un metodo di confronto importante quindi una un collega diciamo che è steam che quindi tenevo anche tenevo anche a salutare parlare di bellezza in matematica vuol dire essenzialmente spostarci su un discorso che ha tre paradigmi fondamentali tre argomenti fondamentali che hai citato tu frattali sezione aurea e numeri di fibonacci diciamo che sono le tre matrici che ci portano a parlare di bellezza ora dobbiamo cercare di capire che cosa intendiamo per bellezza perché anche un poligono regolare di 12 lati 10 lati 6 lati eccetera può essere un indice di bellezza il cerchio in sé può essere un indice di bellezza quando parliamo di bellezza parliamo di un qualcosa che non solo può essere descritta ma possiamo ritrovare faccio un esempio le tessere che avete diciamo nel vostro ora non voglio parlare di bancomat eccetera non voglio arrivare a quello nel senso non non alludo a quello insomma no però le varie tessere la patente la carta identità eccetera hanno una forma rettangolare che in cui diciamo il rapporto tra il lato maggiore e il lato minore chiamiamolo così è pari all'incirca 1,618 che è il valore della sezione aurea la domanda da pocci è è stato calcolato il valore della sezione aurea per poi fare queste tessere o forse queste tessere vengono fatte ad occhio magari istintivamente con certe proporzioni e ci ritroviamo la sezione aurea e la risposta è la seconda nel senso che la sezione aurea questo rapporto ritroviamo in natura e anche per descrivere diciamo delle delle situazioni delle caratteristiche delle dei fenomeni che hanno con sé diciamo la bellezza per esempio la sezione dalla sezione aurea si può arrivare visto che parliamo di api e parliamo di fiori alla disposizione dei petali per esempio di una rosa si può arrivare alle varie disposizioni insomma che si trovano all'interno dei semi di girasole poi magari ne parliamo un po' meglio si può arrivare per esempio alle galassie come per esempio la via lattia si arriva a una serie di situazioni che in cui noi ritroviamo questo rapporto quindi parlare di bellezza e matematica vuol dire parlare di qualcosa che riusciamo a ritrovare nella natura e che ci riconduce effettivamente a questo tipo di rapporto ora oltre alla sezione aurea interrompetemi voi se magari avete diciamo necessità di fare ok come dicevano gli antichi questa è una sorta di proporzione divina proprio per ottenere un'armonia nelle cose la divina proporzione esattamente nasce poi sostanzialmente da diciamo se ci spostiamo un po' qui indietro nel tempo diciamo è nell'antica grecia è chiaro che si parla di sezione aurea anche a fini architettonici però diciamo volevo proprio concentrarmi sul fatto che viene ritrovata all'interno della natura la sezione aurea ed è interessante collegare la sezione aurea a uno dei matematici forse diciamo meno meno blasonati per l'importanza che ha avuto nella matematica perché è stato diciamo il matematico che ci ha portato i numeri arabi cioè noi abbiamo i numeri arabi in europa grazie all'opera di un tale leonardo fibonacci numeri arabi che sono stati portati nel tredicesimo secolo non con facilità c'è stato un impostato una lotta dura per per arrivare i numeri arabi perché c'era la celebre lotta tra gli algoristi e gli abbacisti eccetera c'è come tutte le rivoluzioni come tutte le innovazioni faceva un po' paura quindi abbiamo fatto fatica ma abbiamo risparmiato parecchio perché fare operazioni con i numeri arabi è un conto palle con altre tipologie di numeri e sistemi con altro quindi non altro fibonacci e va ricordato soprattutto per questo per i numeri diciamo così indo arabi perché poi il sistema decimale arabo ma i vari gritti che vengono utilizzati per i numeri sono sono indiani erano due civiltà che arrivarono al sistema decimale e capirono la loro comodità e leonardo fibonacci va a definire una proporzione una successione chiamata appunto successione di fibonacci che in realtà non è così complessa da calcolare e può sembrare anche poco affascinante nel senso che la i numeri di fibonacci la successione parliamo di numeri che si generano in questo modo partiamo dall'uno marco come secondo numero vogliamo essere tradizionalisti conserviamo l'uno quindi 11 ce li teniamo ecco e via poi andiamo a sommare 1 e 1 otteniamo 2 poi sommiamo sempre precedenti 2 più 1 uguale 3 3 più 2 uguale 5 5 più 3 uguale 8 insomma l'abbiamo capita bene video che era molto molto chiaro su questa cosa come marco mi avevi mandato anche in settimana questo video che era molto molto chiaro siri e si riconduce tutto quanto ma io qualche foto perché poi marco che succede sto facendo un po di chiacchia e questo il matematico parla teccio qualche foto insomma qualcosa che poi dopo la web e vorrei mostrare la cosa interessante che se andiamo a fare il rapporto tra un numero di fibonacci e quello precedente più ci spostiamo in avanti e più questo rapporto tende a 1,618 che all'incirca il valore della sezione aurea c'è quindi il rapporto tra una coppia di numeri consecutivi della successione di fibonacci più grande fratto più piccolo perché il rapporto è più grande di uno fornisce appunto il valore della sezione aurea ed è interessante osservare che attraverso la costruzione dei numeri di fibonacci possiamo arrivare a due concetti che ho spiegato prima due esperienze che ho spiegato prima alla forma delle petali di rosa e delle galassie a spirale come per esempio la via lattea ma possiamo arrivare anche al discorso dei girasoli mentre i frattari li metto un attimo in panchina ditemi voi se posso magari condividere qualche foto una foto per mostrarvi la spiegazione in modo da andare un po' il cerchio tra volentieri allora un attimo solo perché questa cosa della botanica è meravigliosa insomma perché per esempio anche la disposizione delle foglie sullo stelo di molte piante seguono la sequenza di fibonacci i petali dei moltissimi fiori penso al giglio tre il ranuncolo cinque magari facciamo una cosa Marco mando a te la foto e la condividi tu perché ho qualche problema anzi no ci riprovo un attimo allora un attimo solo un attimo perché ho due foto che volevo mostrarvi me la mandi su whatsapp web io la condivido subito no ci provo un attimo io direttamente da qui questa sequenza poi foglie petali stami nel senso in tutte e tre le apparati dei fiori si ritrova assolutamente ma infatti ci arriviamo perché dalle rose e i girasoli poi diciamo le troviamo un po' ovunque tecnicamente si arriva anche alla sezione aurea che qualche collegamento con con le cede delle api c'era non diretto ma c'era assolutamente come c'è un discorso legato ai colori insomma c'è parecchia roba allora per esempio questa foto qui l'ho messa in condivisione Marco eccola qua eccola qua allora qui praticamente andiamo a chiudere l'ho presa alla web questa foto un po' il cerchio o meglio un po' la spirale che questa curva in rosso che vedete che ricorda un po' anche diciamo le forme diciamo dei gusci eccetera e questa spirale qui nasce da un rettangolo il rettangolo di vertici qrmo questo è il classico rettangolo delle tessere magnetiche di cui vi parlavo c'è un rettangolo in cui il rapporto tra lato maggiore e lato minore chiamiamoli così e diciamo è approssimabile appunto con la col valore della sezione aurea ora andiamo qui dentro in questi rettangoli piccoli ora questi rettangoli piccoli praticamente per esempio quello che ha come vertici f e b è l'unica cosa tecnica di matematica che che condivido per il resto tutte immagini e roba diciamo più easy allora questo rettangolo qui al lato 1 gli abbiamo sommato un rettangolo con lato 1 quindi abbiamo due rettangoli di lato 1 come i primi due numeri della successione di fibonacci a fianco abbiamo un tria un rettangolo guardate di lato 2 poi abbiamo preso un rettangolo di lato 2 più 1 che fa 3 e via di sorrenda quindi abbiamo ottenuto diciamo una serie di rettangoli 5 più 3 che fa 8 8 più 5 esatto benissimo quindi potremmo andare avanti e la cosa diciamo interessante che ci riconduce la spirale che dal punto b abbiamo creato praticamente una un arco di circonferenza che lo collega ad f un altro arco da f ad h un altro arco da h l e quindi attraverso questa costruzione si ottiene la spirale logaritmica che è quella che definisce la forma per esempio della ghiarattia ma anche ad esempio il discorso della rosa vado a condividere un'altra foto sì allora quindi seleziona un attimo questa sì ok ma hai riportato alle ammoniti ma hai riportato al nautilus in mari tropicali al nautilus compilus come no come no esattamente questa è una foto un po' rivista però diciamo questo è un po' il senso per esempio sì sì esattamente eccola qua per esempio diciamo la disposizione dei petali ci sta ma si potrebbe dire anche altro perché al di là poi della forma della spirale se andiamo a prendere i semi di girasole per esempio che hanno diciamo quegli archetti che si vengono a creare in senso orario in senso anti orario di solito quando si vanno a contare le spirali che vengono create dal centro del girasole e da in senso orario in senso anti orario di solito se le andiamo a contare quelle in senso orario e quelle in senso anti orario otteniamo una coppia di numeri di fibonacci che non è sempre la stessa però si ritrovano praticamente coppie di numeri di fibonacci questi sono alcuni esempi di come sostanzialmente la natura sia ricca di sezione aurea e di varie situazioni che riguardano la sezione aurea tra l'altro possiamo anche togliere la condivisione la sezione aurea la possiamo ritrovare anche in un angolo aureo nel senso che se si va a fare il rapporto tra i lati dei due rettangoli questi due lati del rettangolo si vanno a disporre lungo una circonferenza il rapporto tra l'angolo formato su una circonferenza e l'altro è 137 e qualcosa insomma i semi di girasole se andiamo a sparare un seme dal centro da un punto fissato poi variamo di questo angolo e spariamo un altro seme poi variamo di questo angolo e andiamo avanti all'infinito in questo modo qua abbiamo la disposizione la disposizione dei semi di girasole quindi potremmo veramente spaziare ovunque però diciamo che l'elemento che dà una sintesi tra sezione aurea e fibonacci un altro argomento che ho solo citato non ho ancora toccato che è spettacolare che sono i frattali la sintesi ce l'abbiamo col cavolo romanesco non volevo dire una cosa brutta col cavolo romanesco no perché sembra che ti eri truffato col cavolo romanesco col cavolo no eh non lo so infatti vabbè dicevo che era involontario comunque allora il frattale è una figura un po' particolare da capire il frattale posso far vedere un cavolo giusto per sì sì un po' da ridere però insomma facciamolo vedere ci mancherebbe altro condividiamo allora la definizione di frattale perché la definizione di frattale è un po' è un po' particolare però meglio col cavolo davanti che senza cavolo certo allora facciamo col cavolo sì un attimo che il professor il professor Perna è qua manda un messaggio è sempre buono Agostino com'è eccolo qui andata allora lo vado un po' ingrandire anche se riesco eccolo qua allora la cosa interessante del cavolo romanesco che vediamo un po' se il mouse si vede guardate se prendiamo un'asperità una qualsiasi ok una di queste diciamo asperità una di queste asperità se l'andassimo a zoomare avrebbe la forma di tutto il cavolo cioè guardate tutte queste piccole protuberanze praticamente è come se ognuna di queste andasse proprio a definire un cavolo in miniatura non so se magari si riesce a vedere ora che succede se vado a concentrarmi su un cavolo in miniatura tipo questo qui ora il cavolo in miniatura è fatto da altre protuberanze se vado a considerare la singola protuberanza di questo cavolo in miniatura ottengo un cavolo in miniatura del cavolo in miniatura cioè è un tipo di figura in cui posso andare a zoomare posso andare a selezionare elementi sempre più piccoli e la forma complessiva dell'elemento che vado a considerare risulta uguale alla forma iniziale naturalmente è chiaro io vado a concentrarmi su un elemento particolare cioè dal cavolo complessivo passo a una delle protuberanze da una delle protuberanze passo alle singole asperità però quando una figura quando una forma ha queste caratteristiche cioè che conserva la sua forma man mano che andiamo nel micro andiamo a zoomare alcune delle sue parti siamo di fronte a un frattale non so se si è più o meno capito una sorta di di copia in scala della figura maggiore sì esatto per esempio l'esempio di frattale può essere la visione per esempio delle coste di una penisola come l'Italia dall'aereo che man mano che ti avvicini diventa sempre più netta però magari le forme delle coste restano costanti oppure magari allontanandoti resta sempre la stessa il frattale in matematica è molto interessante come figura perché? perché la matematica quando passa all'astratto ci consente a un certo punto di spostarci di avvicinarci a qualcosa all'infinito senza toccarlo mai faccio un esempio diciamo così piuttosto diciamo banale tra virgolette se io volessi trovare il numero successivo che viene dopo lo 0 e beh potrei dire 0,1 ma in mezzo c'ho 0,01 però tra 0 e 0,01 c'ho 0,0001 tra 0 e 0 cioè io potrei mettere tra un numero e l'atto ce ne sono sempre infiniti quindi tecnicamente se io volessi considerare una successione di numeri che si avvicina a 0 senza toccarlo mai potrei considerare una successione che viaggia all'infinito noi siamo lì se è successo nel viaggio si avvicina allo 0 e non la tocca mai e questo ha portato un matematico di nome Mandelbrot tra l'altro diciamo un matematico del novecento a creare questa la voglio citare perché mi piace molto un tipo di frattale chiamato frattale di Mandelbrot per cui ci sono tutta una serie di ricostruzioni anche su YouTube in cui vedi queste cose psichedeliche particolari con i colori eccetera che rappresenta che rappresenta un insieme del piano complesso cioè potremmo vederlo come la rappresentazione grafica di di soluzioni di un'equazione impossibile quindi arriviamo proprio a concetti diciamo così più di natura filosofica a questo punto che dire che diciamo applicativa che veramente veramente affascinano e il cavolo oltre ad avere chiudo questo discorso del frattale anche il cavolo definisce le spirali che molto spesso percorse in senso orario o anti-orario ci danno una coppia di numeri di fibonacci quindi il cavolo si porta avanti fibonacci frattali sezione aurea c'era tutte quindi col cavolo che lo scattiamo insomma in tutto questo nostro discorso in tutto anzi questo tuo discorso che ai più potrebbe sembrare oddio questi si sono pazziti la matematica a me viene da dire che in tutta questa perfezione l'ape con l'esagono c'entra e c'entra pure bene giusto allora non c'è proprio l'esagono regolare però tecnicamente percorrendo gli angoli aurei quelli che si formano appunto andando a creare su un cerchio diciamo prendendo due acchi che sono pari a due segmenti tipo quelli che definiscono la tessera magnetica percorrendo gli angoli aurei si possono ottenere delle delle forme che diciamo vanno a ricordare un po' gli esagoni non regolari ma ma ci sono ma anche per esempio la composizione degli ali di molti insetti vanno a rispettare questo discorso dell'angolo aureo quindi poi non so se sui numeri di Fibonacci magari c'era qualche riferimento che aveva trovato Gastone insomma quindi io mi tengo nel mio hai citato gli insetti le libellule per esempio hanno questa assoluta perfezione insomma ma penso al bombo anche che in realtà per il rapporto peso superficialare non dovrebbe stare in aria lui non lo sa e vola lo stesso quindi insomma di esempi ne abbiamo sui fiori che avevi fatto prima insomma i fiori proprio quelli di campo io pensavo anche alla Cigoria insomma c'ha la sequenza di Fibonacci perché il fiore di Cigoria la troviamo ovunque quindi è una cosa che noi ci ritroviamo io ho letto una cosa però non so se è vera che negli sciami ci sono anche delle proporzioni tra tipologie di api che vanno a rispettare i numeri di Fibonacci però vi dico la verità non ho delle fonti certissime quindi però potrebbe essere è uno spunto per noi per indagare e anche per ricercare ovvio certo può ricercare qualcosa ci può condividere tranquillamente su un gruppo per carità quello che ha raccontato poi scusa fino adesso una riflessione scherzosa ma fino a un certo punto avessi avuto Rocco come professore al liceo all'università i miei cinque i miei sei sicuramente sarebbero stati voti diversi perché poi bisogna portarla nel senso che poi bisogna portarla in questi termini la matematica e poi anche la fisica adesso vediamo ci mancherebbe altro però abbiamo la possibilità di renderla in maniera molto pratica e molto a portata di mano di tutti con centinaia di migliaia di esempi e allora vanno bene i libri di testo vanno bene le esercitazioni vanno bene le equazioni però insomma dentro la scuola ho un cavolo in più una felce in più un girasole in più probabilmente ci avremmo meno ragazzi disaffezionati a questa materia probabilmente beh è un ragionamento interessante allora per me che insegno matematica e fisica il compito è anche facilitato nel senso che molto spesso magari vado a vado a pescare nella fisica alcuni riferimenti e quindi comunque la fisica ti dà una chiave un po' più diretta è un po' più pratica un po' più visibile di quello che può essere però ci sono tante tante situazioni che possono essere indagate e che sono poco note ma anche per esempio la storia della matematica adesso ho citato un po' Fibonacci però noi diamo per scontato i numeri arabi ma non vanno dati per scontati ma andare poi a vedere anche la geografia della matematica greca la Babilonia gli antichi egizi Pitagora che si incrociava col primo Buddha e che quindi i primi vegetariani erano Pitagori cioè andare a raccontare queste storie è certo che ammorbidisce parecchio poi è chiaro che un lavoro che sto facendo io che fa Agostino da prima di me insomma della Plippi Classroom è anche diciamo un render la didattica alternativa perché magari la video lezione è anche più tecnica che io ho sul mio canale YouTube e che vado a condividere molti studenti mi dicono allora prof noi preferiamo studiare così perché io il video lo prendo su YouTube me lo vedo a casa con i miei tempi eviti anche imbarazzi magari eccetera se magari non mi è chiaro qualcosa e poi la chiedo ed è chiaro che per me in DAD è molto più comodo perché se studiano a casa con le video lezioni io in DAD mi devo occupare di capire se la possono applicare e se non la sanno applicare la matematica non la sanno applicare così come la fisica quindi andare a rendere relativo e vario il campo dell'insegnamento della matematica della fisica apre a molti spunti interessanti e concordo con te perché si potrebbe ragionare veramente su situazioni molto diverse insomma esattamente Castone pensa che io passavo i pomeriggi a chiamare Agostino a casa ma che ce stai sì vengo a casa tua perché mi devi spiegare perché sono quello perché io andavo è una delle prime ripetizioni che fece Agostino all'età di 18 anni 17 anni sono stato proprio io vabbè secolo scorso sì poi lui mi diceva tu però non sei un utente pay quindi qualcosa si tratteneva però vabbè scherzando più del meno la cosa è fantastica perché poi mi viene da dire al professor Rocco glielo ho detto che la celebre frase di di Albert Einstein che Dio non gioca a dati e poi tu Rocco mi hai detto te la posso anche in qualche maniera ci possiamo anche parlare sopra di questa cosa in tutta questa perfezione l'ape quello che ci dà come costruisce questo esagono e addirittura la live scorsa con Paolo Fontana abbiamo visto l'Arnia Top Bar che viene lasciata un'apicoltura molto più naturale possibile cioè sono loro che fanno non devi mettere foglio cero e niente non c'è neanche uno stampo fanno tutto loro se non è questa perfezione che vogliamo fare in tutto questo se riportiamo il discorso un pochettino più vicino alla biodiversità e al e ai fiori alle api a quello che ci interessa insomma no perché noi sappiamo che i fiori costituiscono il ristorante delle nostre amiche se vogliamo produrre un pochettino di miele abbiamo necessità di campi fioriti incontaminati di poca chimica di naturalità il più possibile insomma no so che con Giovanni adesso anche progetti nuovi attività nuove si coinvolgono anche altri settori della società civile perché con il volontariato con il gruppo dell'UNESCO di Soroptimist cercheremo di avvicinarle alle api anche in questo senso qua e ci interessavano anche qualche concetto che magari si può leggere dal punto di vista della fisica cioè qualche concetto di biologia di naturalità che si può leggere però con con le risposte che ci può dare un professore di fisica Giovanni mi sembra pure qualche domanda da fare al gruppo io volevo chiederti diciamo come vedono le api come vedono i colori le api dal punto di vista fisico allora tiriamo fuori un argomento importante che tecnicamente poi ci potrebbe portare anche a fare Marco un ragionamento un riferimento a quella Dio non gioca a dadi relativo alla meccanica quantistica allora è chiaro che parlare sulla ricezione dei colori la percezione dei colori coinvolgerebbe veramente più blanche diciamo delle scienze io occupando di matematica e fisica però posso analizzare per esempio l'aspetto che riguarda appunto i colori il perché un oggetto è colorato dal punto di vista della fisica ed è estremamente interessante perché i colori vengono fuori dal dal bianco tecnicamente la luce che percorre l'incirca 150 milioni di chilometri nel vuoto dal sole e arriva sulla terra viaggia come luce bianca ora ci dicono che ed è vero che la luce sia fatta di onde ma anche di patticelle in alcuni casi allora mettiamo un attimo da parte il discorso delle patticelli prendiamoci l'onda e immaginiamo proprio la luce che è un'onda trasversale come l'onda nel mare quindi un'onda nel mare che a un certo punto si muove attraversa quindi ha praticamente delle creste ha delle valli e ha una certa lunghezza d'onda che è la distanza tra una cresta e quella successiva immaginiamo questa luce che viaggia a 300 mila chilometri al secondo è il vuoto un po' più veloce del mare insomma però a un certo punto succede questo quando impatta l'atmosfera che è la prima cosa che incontra quando diciamo arriva sulla terra beh quando incontra l'atmosfera e incontra l'azoto incontra l'ossigeno incontra una serie di particelli il vapore aquio e allora immaginate un'onda nel mare un'onda nel mare che praticamente a un certo punto incontra uno scoglio allora se lo scoglio è piccolino allora che succede l'onda del mare attraversa lo scoglio e se ne va se invece l'onda del mare a un certo punto trova uno scoglio più grande magari perché ha una lunghezza d'onda più piccola quindi inizia a viaggiare e trova uno scoglio l'acqua si disperde si frantuma un po' qua e là allora la luce succede una cosa simile tra l'altro quando impatta l'atmosfera viene fuori un qualcosa di interessante cioè la luce dentro di sé ha i colori cioè viaggia come luce bianca ma quando a un certo punto interagisce con l'atmosfera vengono fuori delle onde luminose dei vari colori chiamiamo l'onda rossa l'onda blu per intenderci le onde che vengono i colori che vediamo nell'arcobaleno sono i colori che sono all'interno della luce che hanno delle lunghezze d'onda diverse per esempio il colore azzurro e il colore viola hanno le lunghezze d'onda più strette mentre le onde rosse e le onde gialle hanno praticamente delle lunghezze d'onda un po' più dilassate le cosiddette onde lunghe poi ci sono i colori che sono intermedi allora perché li vediamo a un certo punto proprio per il discorso dello schianto che ha un'onda marina su uno scoglio cioè a un certo punto che succede abbiamo le particelle d'ossigeno d'azoto eccetera queste onde colorate che voglio dire gli angi allora magari che succede l'onda gialla che è più lunga attraversa e riesce a superare tranquillamente la molecola di ossigeno e di azoto faccio un esempio l'onda rossa idem magari ne acchiappa pure uno ogni tanto ma è raro perché comunque ha una lunghezza d'onda le onde azzurre e le onde viola no le onde azzurre e le onde viola che fanno siccome sono più strette beccano più particelle e ogni volta che beccano più particelle si diffondono maggiormente allora noi vediamo per esempio il cielo azzurro perché il nostro occhio è più sensibile all'azzurro e al viola che sono i due colori che si diffondono di più e percepiamo i colori azzurro tra l'altro questa diffusione quella ci permette di vedere il cielo omogeneo ci permette di vedere gli oggetti ovunque quindi questo è un primo esempio dell'approccio che ha la luce con la materia c'è la luce quando venendo incontro la materia può diffondersi la materia tra l'altro può fare anche altre cose e arriviamo anche al discorso dei colori dei fiori diciamo che nel complesso la luce si può diffondere può essere però anche assorbita dagli oggetti e può essere trasmessa quindi sono questi tre fenomeni fondamentali che interessano l'interazione tra luce e materia per esempio per tornare un attimo al cielo per arriviamo i fiori quando vediamo le nuvole bianche e perché le nuvole sono dense di vapore aqua che sono delle marticelle più massicce quindi non solo l'azzurro e il viola ma tutti i colori tendono a diffondersi quindi vanno a ricomposti allo stato originario che era bianco per questo magari la nuvole è bianca però arriviamo un attimo sulla terra quando a un certo punto i vari raggi luminosi ok vanno a incontrare la materia in alcuni casi vengono diffusi in alcuni casi vengono trasmessi in alcuni casi la materia è in grado di assorbire selettivamente alcuni colori quindi magari se io vado a illuminare una rosa rossa con un fascio di luce bianca la rosa rossa riesce ad assorbire tutte le tonalità di colori e a riflettere a trasmettere solo il colore rosso quindi noi percepiamo il colore rosso perché la rosa è andata ad assorbire tutti gli altri e attenzione l'energia perché le onde trasmettono energie e anche la luce trasmette energia che principalmente diciamo si diffonde sotto forma di calore viene assorbita dagli oggetti quindi in parte viene riflessa e in parte viene assorbita un oggetto nero la mia maglia per esempio tende ad assorbire tutti i colori in estate si dice che il colore nero attrae di più il sole non perché lo attrae maggiormente ma perché riesce a bloccare tutti i colori e quindi praticamente abbiamo una sensazione di caldo maggiore una parete bianca si dice che illumina maggiormente rispetto ad altri colori perché riflette tutti i colori quindi tornando ai fiori i colori che vengono percepiti non solo diciamo danno una sorta di variazione energetica perché il colore fondamentalmente è energia ma sono appunto il frutto della sintesi di questi fenomeni che ho provato a esemplificare perché comunque non sono poi sono un po' delicati in realtà soprattutto se andiamo sull'aspetto tecnico che vengono dalla luce bianca quindi questo più o meno in sintesi io ad esempio mi sento mi sento di dire perché lo leggevo e lo rileggevo anche poc'anzi che le api non riescono a cioè riescono a vedere i colori dell'ultravioletto e non si eh Giovanni giusto mi sembra che la nel bosca non so in quale libro che c'eravamo condivisi e poi riescono a vedere il giallo tant'è vero che le nostre tute sono gialle o sono bianche o sono gialle quindi sì loro hanno questa particolarità nella visione eh riescono riescono ad avere questa percezione ma all'ultimo alla fine perché poi molti si chiedono per quale motivo poi sono attratte dai colori rossi anche se il rosso loro non lo vedono ma sono attratte ad esempio dal papavero ma più che altro lì è una questione di polline e invece non c'è mi sembra che nessuno di noi abbia ad esempio degli apicoltori abbia la cassetta rossa ma abbiamo le cassette ad esempio colorate di verde colorate di giallo sono gli unici colori che l'ape ultravioletto poi non ne parliamo non è che lo possiamo fare però insomma l'ape riesce a percepire proprio alla fine e questo addirittura l'ape proprio perché ha questa vista esagonale riesce a percepire invece il colore come dicevi tu Rocco il bianco della luce il sole ma è vero che una cosa che non deve fare proprio l'apicoltore è passare di fronte alla cassetta quando c'è un raggio di sole è come se pel toro la muleta te metti qualcosa di rosso e lì è la fine poi ma guarda che questo poi dipende anche dalla costituzione della sensibilità degli animali ma ci sono tanti altri esempi in natura anche con i suoni per esempio i pipistrelli per esempio emettono degli ultrasuoni cioè emettono dei suoni che sono delle onde che hanno una frequenza cioè si ripetono nelle oscillazioni molto di più molto più grande rispetto a quella che noi riusciamo a percepire con l'udito e in questo modo riescono a orientarsi perché emettendo diciamo un suono e quando il suono rimbalza su un ostacolo c'è il fenomeno dell'eco con gli eco di questi ultrasuoni riescono a calibrare un attimo le distanze che ci sono dagli ostacoli e quindi riescono a orientarsi le mantidi le farfalle hanno delle strutture diciamo nel proprio organismo nella propria struttura che gli permette di percepire questi ultrasuoni e mettersi diciamo al riparo dei pipistrelli quindi se andiamo sulla percezione è interessante vedo un bel canale youtube di sottofondo lo conosci? lo riconosci? ok bello fatto bene ma no ma poi mi piacciono tutte queste miniature mi piacciono mi piacciono sono dei colori sgargianti che a me vedi Castone la differenziazione quindi playlist home video playlist un canale così organizzato dovremmo fare noi ma contenterei anche di un decimo di questo qui va bene va bene anche meno anche perché penso che Rocco lì ci sia arrivato per gradi piano piano avere una struttura un'impalcatura di questo tipo io inizio a lavorarci l'estate scossa ok ero praticamente a Castel di Sangro inizia a fare diciamo dei lavori di video lezioni piano piano ci sono arrivato insomma poi la DAD è stato un caso nel senso mi si sono ritrovato in DAD già con questo progetto avviato già avviato ho messo i tutorial per la diattica a distanza insomma poi inizio a fare una serie di attività anche io faccio il live in cui parlo di divulgazione poi ci ho abbinato una pagina Instagram un profilo Instagram in cui magari parlo più del fenomeno come ho parlato con voi diciamo della luce eccetera eccetera più a livello divulgativo raccontato cioè cercando di andare un po' ad abbattere quelle barriere che purtroppo allontano spesso la matematica dalla fisica ma anche per esempio il discorso della meccanica quantistica e io non gioco a dadi che avevi citato la meccanica quantistica forse se chiediamo a dieci persone prese quella che cos'è la meccanica quantistica io lo so hanno proprio un blocco ma attenzione faccio però un discorso diverso perché magari la fisica delle particelle ti dicono ok sono le particelle elementari non so cosa siano però le so la meccanica quantistica non si capisce se è probabilità se è un metodo se sono contenuti eccetera o la meccanica quantistica in cui Einstein è stato uno dei promotori Einstein, Planck e tanti altri fisici diciamo tutti i fisici del novecento tutti i premi Nobel l'hanno preso per la meccanica quantistica Einstein stesso non ha preso il premio Nobel nel 1921 per la relatività l'ha preso per l'effetto fotoelettrico per le caratteristiche diciamo corpuscolari della luce la meccanica quantistica a un certo punto questo dualismo onda patticella lo trasmette anche nella materia cioè si scopre che anche la materia può assumere diciamo degli atteggiamenti come un'onda allora attenzione perché se io ho di fronte per esempio uno schermo con due fori e sparo un fascio di luce proprio perché un'onda la luce si propaga in tutte le direzioni attraversando i due fori allora un elettrone che è una particella potrebbe ritrovarsi ad avere la probabilità di passare sia da una parte che dall'altra quindi una particella che dovrebbe passare da una sola parte potrebbe passare per le sue caratteristiche conduratorie tra entrambe le parti allora per diciamo sciogliere questo arcano a un certo punto si è deciso di inserire il calcolo delle probabilità nella meccanica quantistica quindi lo studio dei fenomeni microcoffici attraverso il calcolo di probabilità che era un po' indigesto quel dio non gioca a dadi i dadi sono un riferimento al calcolo di probabilità però poi si arriva ad accettarlo si arriva alle cosiddette funzioni d'onde eccetera eccetera e si è arrivato diciamo a questo approccio in cui non possiamo determinare al cento per cento con esattezza determinati fenomeni nel mondo patroscopico ma possiamo approssimarli in maniera piuttosto esaustiva i modelli atomici io l'avevo interpretato io l'avevo interpretato diciamo affrontati con i numeri quantici quindi diciamo è più un metodo che una branca della fisica se vogliamo che ci avvicina probabilmente molto probabilmente di sottolineare io alla realtà io l'avevo interpretata come un disegno ben preciso quindi in cui vedevo il fatto dell'apicoltura che poteva essere non dico uno dei capitoli principali ma un supporto delle nostre fondamenta anche perché Rocco sentirti così veramente io sono d'accordo con Gastone ma che ci andava a fare a scuola prima? ma mi ringrazio vuol dire che insomma guarda veramente adesso che si capiscano le cose che magari cerco di condividere non te lo nascondo che ogni tanto do un'occhiata ai tuoi video e a quelli di Agostino ultimo mi sembra che sono spettacolari pure eh anzi sì 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 ma poi Agostino mi ha sempre detto ma io non ho capito tu ci metti poco a editare un video io invece ci devo ragionare la matematica deve essere capita mi devono cercare invece tu prendi boom metti il video noi a noi piace parlare di eh abicoltura di biodiversità di natura tu pur cioè spaziando in vari campi matematica fisica ehm entomologia l'altra volta giusto Gastone con Paolo Fontana insomma in maniera approfondita biodiversità concetti che dovrebbero essere propri di tutti noi credo no perché ci riguardano da vicino no sono argomenti del quotidiano quindi non sono così come la matematica che ha descritto Rocco in maniera così semplice traducendo concetti ostici in naturalezza assoluta la stessa cosa insomma penso che io penso non so da amministratore per esempio no andiamo un attimo sull'altro campo visto che hai un ruolo importante seppur in un paese insomma non grandissimo ma la buona politica secondo me si fa bene dal piccolo al grande anzi può essere una buona palestra questo qui sicuramente no ecco nel tuo comune è anzi è un comune ancora dove c'è una biodiversità ricca e se sì il comune fa degli interventi mirati verso la filiera per esempio di una biodiversità corta immagino non so le menze scolastiche per esempio o cose di questo genere sì ci sono una serie di progetti anche perché voglio dire la vocazione agricola del mio comune ed è un comune che però come tanti altri riesce a sopravvivere magari in questi tempi di pandemia ci stiamo un po' riorganizzando anche attraverso eventi attraverso manifestazioni attraverso un turismo di prossimità ma anche oltre che insomma e quei borghi insomma in cui si va volentieri a fare una passeggiata insomma per staccare dal dal quotidiano e una parte della Puglia incastonata con la campagna siamo a tre chilometri dalla campagna eravamo in campagna negli anni venti abbiamo tradizioni molto simili a quelle di alcune parti della Basilicata del Molise e anche della provincia di Chieti dell'Abruzzo e non è casuale perché praticamente la transumanza ha riguardato anche la nostra zona quindi anche da un punto di vista linguistico abbiamo delle contaminazioni importanti sui proverbi sui cognomi io ricordo che quando insegnavo a Castel di Sangro che aveva passi da Alfedena il cammino da Alfedena che è uno dei più celebi insomma ho ritrovato cognomi nomi e modi di fare usanze che erano molto simili a quelle del mio paese e tra l'altro noi che abbiamo il culto diciamo micaelico abbiamo la grotta di San Michele avevamo due fiere che consentivano durante la transumanza diciamo la discesa la risalita e quindi una sosta nei pressi di Ossara ci sono tante belle storie nei paesi come Ossara Celle e tanti altri noi abbiamo dei prodotti che sono proprio della nostra terra abbiamo dei ragazzi per esempio c'è una famiglia a cui ho parlato tra l'altro di voi che producono miele che hanno fatto delle cose particolarissime il nocciol miele con la crema di nocciola presentato l'expo di Milano faccio un esempio abbiamo un cuoco contadino uno chef che al livello diciamo piuttosto atti che produce dal vino alla salsa all'olio a prodotti da forno eccetera abbiamo tanto e abbiamo lavorato anche sul recupero della biodiversità attraverso dei parchetti della biodiversità quindi lavoriamo moltissimo su quella che in realtà per noi è la valorizzazione di un territorio più che che un'invenzione quindi per noi la biodiversità è veramente fondamentale poi ripeto in questa pandemia credo che paesi come questi stiano dando la possibilità di dare un'alternativa anche di vita perché obiettivamente stare in un paese come Ossara insomma ti dà più spazi ti dà una libertà maggiore che non è assolutamente paragonabile al lockdown svolto per esempio in un condominio ora l'ho messa così per dire comunque sia e biodiversità anche probabilmente lo stile di vita lo stile di di appartenenza ed è bello perché voglio dire la mattina quando mi sveglio col gallo di mia nonna 93enne che fa dall'altro delle orecchiette spettacolari produzione industriale tutto uguale sono momenti importanti insomma sono momenti importanti Giovanni portare a Tuglia Giovanni ci andiamo Marco ecco dai eh sì sarà possibile facciamo una capatina da quelle parti sì 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 assolutamente a proposito io ti ringrazio Rocco anzi sarebbe bello fare una prossima live con questi produttori di come no come no ti metti in contatto poi puoi presenziare anche tu anzi eppure meglio e Gazzone ma se facciamo questo gemellaggio digitale tra Apilatina e l'apicoltura questo tu l'avevi lanciato anche diciamo così fuori onda possiamo dirlo adesso che è la diretta ormai a 50 minuti sulle spalle credo che sia una cosa da perseguire cioè dobbiamo farlo assolutamente allora abbiamo gettato abbiamo la prossima live sarà così gemellaggio digitale con oh bravo eh il che non è bello di più perché abbiamo già fatto un piccolo gemellaggio con Marsala eh Gastone sì 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 Andrea Ligari che dobbiamo Andrea Ligari risentirlo che addirittura io lo saluto ogni tanto noi ci sentiamo via Whatsapp e dobbiamo chiedere delle delucidazioni e dei sapere come va il suo progetto eh perché ci teniamo poi aggiornati ovviamente che poi oltretutto hanno fatto anche qui a Latina no? giusto Gastone con abbiamo visto ultimamente dove l'hanno fatto da Diaforà Diaforà l'inclusione sociale sì esattamente ecco una piccola l'aviario sociale l'aviario sociale pensa un po' che che spettacolo comunque vabbè io eh ragazzi vi ringrazio a tutti quanti ringrazio il professor Rocco Tedda che è stato con me grazie a voi la matematica grazie veramente la matematica la semplicità della perfezione chiamiamo così delle nostre api e speriamo di riaverlo più presto possibile ma soprattutto a volentieri ma soprattutto con questa insomma questi produttori di miele facci sapere qualcosa Rocco tu lo sai oramai abbiamo i telefoni i mobili i cellulari quindi condividiamo qualsiasi cosa io ringrazio Gastone ringrazio Giovanni e insomma abbiamo fatto 50 minuti di live Gastone 50 minuti di matematica non le facevo dal liceo dalle ripetizioni del professore io si li faccio spesso immagino che per te sia la routine però io mi sono divertito ho preso pure appunti insomma piacevolissimo veramente prof grazie buon lavoro grazie ancora che sei intervenuto prof ragazzi buona serata a presto un abbraccio a tutti quanti un abbraccio a proposito buona domenica delle palme a tutti Gastone prossima settimana ci siamo pausa ci vediamo l'undici di aprile ci vediamo dopo va bene va bene d'accordo scusami a questo punto mi dai un assist forse facciamo un'imposta al riguardo l'uovo di Pasqua può essere collegato agli ovali di Cassini in cui un caso particolare agli ovali di Cassini è una forma chiamata l'emniscata che è l'otto rovesciato che definisce la forma all'infinito quindi se vogliamo a Pasqua non scherzo perfetto allora Rocco allora Rocco adesso adesso tu dovrai fare un video sul tuo vitale un quarto con il prof e dirai proprio questo allora faccio un post l'Instagram con il luogo di Pasqua e gli ovali di Cassini va benissimo perfetto così lo condividiamo così lo condividiamo grazie 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 lo aspettiamo ciao ciao a tutti grazie ciao